Salve a tutti ragazzi e ragazze, salve a tutti comunque Wow 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 ragazzi ed eccoci qua con un video un po' diverso da solito So che a molte persone fa triggerare quando dico questa frase E la dirò sempre, perchè più vi triggerate più mi diverto A parte gli scherzi, ci doveva stare l'unboxing di su un microfono Ma c'è stato un errore di impostazioni video E diciamo la registrazione è andata a farsi diciamo come le madri dei miei haters A fottere A parte questo, tranquillamente oggi vi faccio la recensione e non unboxing Di questo bel microfono chiamato Yotto Yotto è un microfono che più o meno ci sta qualche video su YouTube Qualcuno un po' vecchiotto, qualcuno anche nuovo Lo usano anche molti YouTuber e streamer americani E in confonda prima che ho il microfono delle cuffie L'audio è molto ma molto migliore Ovviamente la cosa bella di questo microfono Che è USB Cosa negativa che se non è jack per attaccare dei mixer di qua di là Però quei microfoni a condensatore che hanno bisogno, che hanno dei jack Se non hai una scheda madre con una scheda audio dedicata abbastanza buona Perché molte schede madri, anche la mia ce l'ha però Non è una delle migliori Ci sono quelle schede madri però quelle ti costano intorno ai 300 passa euro Quelle schede madri perché hanno una scheda audio dedicata buona E quindi l'attacchi, quindi puoi cercare di ridurre il suono Si sente molto meglio Se no devi comprare, come fanno molti streamer, un mixer a parte Per poter fare l'impostazione E' un casino con il jack Non dico che i microfoni con il jack faccia schifo Perché ne stavo comprando uno Però dovevo smanettare un po' Però sul microfono La cosa bella è che lo attacchi E tranquillamente va E non ha rumori di fondo Addirittura con il suo microfono posso fare anche il Gli ASMR Anche se non sono amante di questa tipologia di video Comunque il fatto è che il suo microfono non costa nemmeno tanto Per quello che vi offre Perché vi offre il braccio Il filtro antipop Il filtro per il microfono Che non lo uso quasi mai Perché mi si riduce leggermente il suono audio Quindi mi si riduce di meno la voce Però Quando canto Metto questo Sennò succede un po' il casino Ovviamente il microfono Diciamo che Nelle cose tecniche Sono Faccio schifo a spiegarle Anzi a proposito Devo salutare Lord Xenorath Perché ha detto Guarda devo comprare il microfono Questo, questo e quello Quale compro? E mi ha detto Guarda Che questo qua è buono Fra i tre che hai visto In effetti Buonissimo Il bello è che non ha rumori di fondo Credo di averlo già detto Non lo so Uno costa poco Meno di 70 euro All'inizio costava sugli 80 Poi si è abbassata Ed è rimasto fisso Sui 68 70 euro Per quello che offre La qualità audio e tutto Molti streamer Lo tengono Molti youtuber Lo tengono Ci sono state recensioni Da streamer Che hanno Mille e mila visual E tranquillamente O lo continuano A usare O lo usano come Secondo microfono Per gli ospiti E così via Giustamente Non si dovrebbe attaccare A un mixer Tranne se trovi Quelle cose Con l'adattatore Da usb a jack Ma non so Se funzionerebbe Quindi Per chi ha un mixer Vi converebbe Prendere un condensatore Con l'attacco jack O Se ci sta Con il microfono Jack e usb Che vi danno Due cavi insieme Potete tranquillamente Attaccare quello Però Io vi consiglio Sempre di attaccare Direttamente al pc E Non fare cose strane Altrimenti Poi spendete Sotticce Potete rinviare Con amazon E tutto Però Non credo Sia l'ideale Riuscire Ad avere Che so A prendere Il microfono Ridarlo Prendere un altro Quindi quello Con il jack Vi consiglio Direttamente Un microfono Con ingresso jack Se avete un mixer Tranquillamente Vi lascio il link In descrizione Di questo microfono Che costa poco Per la qualità Io ci ho messo anni Ma dopo Tanto tempo Sono riuscito A comprare Un microfono Decento Ovviamente Devo ringraziare Il trono dei muori Che aveva fatto Una donazione Aveva regalato Una sub E si è abbonato Lui E con quella donazione Ha concluso Diciamo L'obiettivo All'epoca Era 65 euro Però costa Più di 65 euro Avevo Qualcosina Di mio In privato E mi sono detto Prendiamo Sul microfono Perché Visto Le recensioni Anche positive Cosa negativa Su tutti i microfoni In generale Perché ho visto Molti microfoni A maggior parte Dei microfoni Ti dura garanzia Non due anni Ma un anno Non so se Perché sono microfoni Non lo so Comunque Sempre su Amazon Credo che Durerebbe Due anni La garanzia Non mi ricordo Comunque Il fatto è che Questo è un buon microfono Per chi vuole fare i lavori In effetti La mia voce Si sente abbastanza bene Anche da questa dimensione Io tranquillamente Posso che so Stendermi Stendermi No Non sembra che sono morto Se mi stendo Però posso stare In svelate Posizioni E tranquillamente Sentirsi abbastanza bene Che dirvi Questa è stata La mia recensione E Giustamente La qualità È molto Ma molto Ma molto Migliore Di quella Che avevo prima Ovviamente Ci sta sempre Il solito Idiota Che Appena Leggo la chat Che sta Sul cellulare Io mi sono abbassato E una persona Eh Cambia Il nuovo microfono Non ti si sente E se Mi le testa Di cazzo Se io mi sposto Da un lato Grazie al cazzo Che mi si sente Di meno Giustamente Qui Non ce l'hai E se io mi abbasso Per leggere il tuo nome Perché Stava scritto Un colore chiaro Il chiaro e bianco Non vanno d'accordo E non riuscivo A capire chi eri Non è il microfono Che non va E siete Che non hai un cervello Da capire Che Se mi sposto Se mi abbasso L'audio Diminuisce Non lo sapevi Beh Ora lo sai Almeno Hai imparato qualcosa Di nuovo Dal tuo dio Don Vito Dai A parte questo Grazie a tutti Il supporto Vi ricordo Che sabato Ci sarà 12 ore E in più Non ho detto Che mi sono dimenticato Di dire a cebbero Che ci sarà Un giveaway O giveaway Non so come Volete pronunciarlo Comunque Ci sarà Un giveaway E ovviamente Il giveaway È soltanto Riferito ai sub Perché Ma non è giusto Così tu ti prendi Il giveaway Poi te ne vai E mi offendi Bello mio Paga Se vuoi avere Il giveaway O abbonati Gratis con Amazon Quindi Mi dispiace Ma per Tutti i restanti Persone Il giveaway Non è Che poi Non è un giveaway Che è fatto Da uno sponsor Che ci metterò Io i soldi Per voi Giustamente È riservato Solo i sub Che chi supporta Il canale Si beccherà Il giveaway Ovviamente L'estrazione Sarà fatta A fine live O tra e mezzo Quindi evitate Di entrare Salutare E poi andarvene Perché Se poi verrete Estratti Dopo due minuti Verrete Verranno estratti Altre persone Quindi occhio Non fate quella cosa La fregarella Perché Con Don Vito Non potete fottere Invece io fotto Con le mate Degli haters A parte questo Vi ricordo Per la 12 ore Vi ricordo Sempre che ci sta Il giveaway Quindi occhio 12 ore Giveaway Dark Souls 3 Ebbene sì Farò Dark Souls 3 In live Chi è fan E follower Potrà Aiutarmi A fare Le missioni E continuare Ad andare avanti Invece chi è abbonato Potrà decidere L'aspetto E potremo creare Anche Mr. Marra O Tutubi Come personaggio Giocabile Su Dark Souls E tranquillamente Chi è abbonato Potrà decidere Come costruirlo Ovviamente È un pezzo Per ogni abbonato Se no Se mi chiede Tutti i personaggi Un unico abbonato Non mi sembra giusto Quindi ogni abbonato Deciderà Cosa aumentare Chi di meno Poi se si vogliono Mettere d'accordo E più persone Decideranno Di aumentare Gli occhi In quella dimensione Allora in quel caso Accetterò E metterò La dimensione Di quegli occhi Che le persone Hanno chiesto Ovviamente Solo gli abbonati Invece i follower Potranno decidere Di aiutarmi E giustamente Ci saranno Uno scondo Sulle donazioni Che sul link È un po' Diverso La potete Donare Con la voce Che Anziché costare Due euro Per la voce Cinque euro Per video su youtube Costerà Un euro Per la voce E tre euro Per video su youtube Quindi evitate Di spammare Cavolate O sennò Sarà un po' Difficile Fare una live Solo Mentre dite Cavolate Cioè Mentre Mi spammate Cose Per darmi Fastidio Mentre il gioco Quindi evitate Di spammare Canzoni Offensive Pagando Tre euro E poi Cercando di Fammi Bannare Il canale Quindi Evitate Di fare Sa cosa Vi prego Che io Amo Twitch E quindi Io voglio Che diventa Un euro Quindi Non donate Mettendo Canzoni Razziste Che io Voglio Campare Su Twitch E niente Ci vediamo Tranquillamente In live Tra un po' E a proposito Di live Vi ricordo Che la live Ci sarà Sempre Con questo Microfono Solo Per voi Prima di andare ASMR Col pizzetto Ciao Ciao Tutti Ciao Ciao Ciao